Il blog, siamo qui a proseguire il nostro giro di interviste e oggi siamo in IBM, quindi una sede prestigiosa, un ospite di tutto rispetto, Andrea Pontremoli che è l'amministratore delegato di IBM. Chi l'ho intervista oggi per il blog? Abbiamo qui Lele Dainesi. Ciao Lele. Ciao Marco, grazie a voi. Siamo qui a fare questa breve intervista, Lele la seguirà e dacci un pochino gli argomenti su cui cercheremo di entrare nel merito con Pontremoli. Allora, breve giro su internet e le loro ultime novità dell'ultimo mese. Grande attività sul web 2.0 con progetti, impegni. Il loro amministratore delegato di gruppo, Palmisano, ha ben due avatar su Second Life, Andrea Pontremoli ha un suo avatar. Poi passerei attraverso il rapporto tra Cisco e IBM perché ricordiamo che Andrea Pontremoli è stato invitato alla plenaria del giorno business dell'8 marzo insieme ad altri amministrati delegati. So che loro stanno lavorando insieme su varie tematiche e chiuderei un pochino col tema delle aziende. Sai che IBM è vicino ad abilitare le aziende a questa nuova rete partecipativa. Allora farci spiegare un pochino come vorrebbero abilitarle, come stanno spiegando alle aziende le nuove tecnologie e gli usi delle nuove tecnologie. Super. Allora intervista con Andrea Pontremoli, amministratore delegato di IBM e Lele Dainesi. Andrei Pontremoli, presidente e amministratore delegato di IBM Italia, benvenuto a Cisco Expo 2007 sul nostro blog. È un piacere essere qua con voi oggi. Bene, siamo qui in casa vostra per discutere della partecipazione di IBM a questo evento, a Cisco Expo appunto del 2007, ma in generale della visione di IBM sul web e sulle evoluzioni tecnologiche che appunto sono molto bene rappresentate in questa hall. Partiamo dal web 2.0, una nuova fase di internet estremamente dinamica, brillante, dove voi state operando come protagonisti. Qual è la vostra visione su questo nuovo web che è il web della gente, della partecipazione? Finalmente il web comincia a diventare uno strumento per poter lavorare, per poter fare business e anche per poter socializzare. Quindi sta veramente prendendo la connotazione di strumento e non di fine. Fino ad oggi il web che abbiamo utilizzato è sempre stato un elemento che era il fine. Quindi fare business su internet, fare business attraverso internet, ma qui a internet sta diventando uno strumento per fare quello che io veramente voglio fare. Questo vale per le aziende e vale anche per le persone, quindi troviamo queste notevoli esperienze che stanno esplodendo di utilizzo di internet come strumento. Questo è un elemento che io spingo molto, cioè come elemento abilitante a un modello, che può essere un modello sociale o un modello di business. Ecco, le persone comuni hanno trovato nei blog il loro strumento abilitante. I blog sono ormai un fenomeno della rete protagonista, più di 50 milioni di blog, ne nascono ogni giorno tantissimi. Questi blog cominciano a parlare anche delle aziende. Che cos'è questo fenomeno blog, cosa dobbiamo aspettarci da qui nei prossimi anni, come evolverà secondo voi che lo state monitorando e seguendo così attentamente? Il blog è l'espressione della libertà, quindi ciascuno può portare il proprio contenuto all'interno di un ecosistema che è diventato mondiale. E questo toglie tutto il potere dell'intermediazione, toglie il potere di veto e rende veramente la rete un elemento di, fatemi dire, democrazia, se si può chiamare così. E tra l'altro io qui vorrei citare un'esperienza molto personale, però ha coinvolto Cisco che mi sta seguendo da sette anni su questa avventura, che è quella di un piccolo paesino sulle montagne, sugli appennini, che si chiama Bardi. E su questo paesino, che sta morendo perché è fuori da tutte le linee di comunicazione, stiamo pensando di usare la rete come elemento abilitante a uno sviluppo sostenibile. E siamo partiti nel 2000 con questa idea un po' matta e devo dire che i risultati sono stati straordinari. Cioè stiamo cominciando a portare immigrati, che però gli immigrati sono scienziati, sono matematici, sono filosofi, sono anche dei giornalisti, tra l'altro. Quindi può avere qualcosa anche per lei. E la cosa interessante è che nel 2000, quando siamo partiti, abbiamo fatto scalpore portando uno dei più grandi blogger di quel tempo, che si chiama Derek Powazek, che ancora oggi è un guru in questo ambito, che ci era venuto a spiegare come l'essere confinati dal punto di vista linee di comunicazione normali, con internet invece sarebbe stato un grande vantaggio. E quindi il blog sta proprio donando la libertà e togliendo quegli elementi inibitori, che potevano essere il fatto di essere in paesi del terzo mondo, poteva essere il fatto di essere in paesi che non potevano comunicare perché non avevano le strade piuttosto che, e anche per aziende che non hanno tutta la forza di marketing, eccetera, che possono avere i grandi colossi. E qui basta avere una grande idea che immediatamente io posso andare sulla rete e renderla viva. Immagino che al 7 e l'8 marzo al Cisco Expo si parlerà anche di questi temi, ma veniamo all'Expo. Lei insieme ad altri amministratori delegati ha accettato di partecipare a questo evento, che appunto per Cisco, che ospita e sponsorizza questo blog come suo blog ufficiale, è un po' l'evento dell'anno in termini di comunicazione. Lei partecipa a moltissimi eventi, perché questo lo ritiene un evento importante a cui partecipare, a cui dedicare un video podcast e la vostra collaborazione con Cisco. In che cosa consiste oggi? Beh, io partecipo a molti eventi, non moltissimi, e quindi li seleziono. E il fatto di partecipare al Cisco Expo è perché ha una valenza per noi molto importante, sia perché con Cisco abbiamo una partnership ormai da anni, che si sta consolidando sempre di più sul mercato, secondo anche perché è un modo per noi come IBM di capire quali sono le tendenze di mercato e quindi imparare anche dai nostri colleghi su come si sta muovendo il mercato. E tra l'altro con Cisco questa partnership, poi la vedete anche qua intorno, perché qui vedete tecnologie e software di IBM, ma ci sono anche tecnologie e software Cisco. Ci tengo a dire che questa sede è stata tutta fatta in voice over IP con prodotti Cisco, e quindi uno arriva in questa sede, apre il proprio PC, è collegato in una qualsiasi stanza, suona il telefono fisso di quella stanza e la telefonate per lui, perché ha riconosciuto che quel signore è seduto in quel posto e quindi è lui che in quel momento sta usufruendo della sede. Questi sono esempi che poi abbiamo replicato anche qui simulando degli uffici virtuali da far vedere ai nostri clienti. E la logica qual è? Lo vedete qua anche in questi scenari, è di far provare ai nostri clienti l'uso della tecnologia. Poi gli spiegheremo quale tecnologia sia dietro, quante centinaia di prodotti, configurazioni. Ma se partiamo dai prodotti non arriveremo mai a portare il vero valore alle nostre imprese, ai nostri clienti. Questo vale per IBM, vale per Cisco e vale per tutti gli operatori che lavorano oggi nell'informatica. E Web 2.0 ci sta insegnando questo, essere vicini a chi la usa la tecnologia rendendogliela semplice. Poi è compito nostro gestire la tecnologia.